Dal primo aprile Pesaro non rischia di perdere uno dei più comodi e strategici collegamenti ferroviari con la capitale. A fugare quei dubbi fomentati questa mattina da un articolo apparso sul resto del Carlino è stato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il primo cittadino attraverso un post sui propri canali social ha infatti assicurato che la fermata delle ore 7 e 16 del Frecciabianca Ravenna Roma verrà mantenuta anche nel periodo primaverile e con essa verrà conservato l'unico treno che collega quotidianamente e in maniera diretta il nord dell'Adriatico con la capitale. Ricci a colloquio telefonico con alcuni vertici di ferrovia italiane ha preso che l'equivoco nasce da un disguido informatico che si sta cercando di risolvere e che a breve consentirà il regolare ripristino del servizio. Già perché ad oggi il treno diretto Pesaro Roma delle ore 7 e 16 prevede biglietti regolarmente acquistabili fino al 31 marzo per poi far sparire la possibilità d'acquisto dal primo di aprile in avanti. Da qui è nata la deflagrazione di un'ipotesi di soppressione non aiutata dal silenzio di comunicazioni ufficiali che è stata poi sufficiente a mobilitare l'immediata attenzione delle forze politiche. Il centrodestra in consiglio regionale aveva infatti già inoltrato formale richiesta a Trenitalia di non procedere alla soppressione con una missiva firmata dai consiglieri Nicola Baiocchi, Giacomo Rossi, Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri. Allo stesso modo il consigliere regionale del PD Biancani aveva preannunciato una eventuale manifestazione di protesta in caso di conferma di soppressione.